Massimo Giannini, il Premier Conte ha chiuso il negoziato con l'Europa, ha così evitato la procedura di infrazione e oggi in effetti lo spread è sceso, la borsa è andata bene. Quindi è un successo del Premier Giuseppe Conte? Guarda, dopo questo risultato a me è venuta in mente una vecchia frase di George Orwell che diceva che il modo migliore e più rapido per finire una guerra è perderla. Non si può certo dire che l'Italia abbia vinto questa battaglia con l'Europa. Diciamo che ha siglato un armistizio, quanto onorevole lo vedremo. Per adesso quello che è evidente è che rispetto alle premesse iniziali il Governo ha dovuto fare una sostanziale retromarcia sia dal punto di vista degli importi di questa manovra, che riguardano tra l'altro i due capitoli più importanti sui quali era costruita reddito di cittadinanza e quota 100, sia per quello che riguarda l'entità complessiva, l'impatto stesso della manovra che si riduce di quasi 10 miliardi, dove taglieranno, più o meno Conte lo ha spiegato, ma al di là di questo, se vogliamo trarre un bilancio politico, io dico è stata una resa opportuna, necessaria. Da questo punto di vista non sono tra quelli che oggi criticano o prendono in giro il Governo perché ha fatto la retromarcia dopo che per settimane e settimane l'avevano accusato di voler andare allo scontro frontale. Perché certo c'è stato l'errore iniziale, la scommessa sbagliata di Salvini e Di Maio, che è stata quella di pensare che con questa Commissione europea ormai in scadenza, forzare le regole avrebbe garantito un successo. Non è stato così, questa Commissione europea ha resistito, quindi è stato sbagliato tentare la guerra senza avere la certezza di vincerla. Quindi in questo senso abbiamo sprecato un paio di mesi, abbiamo sprecato anche un po' di miliardi sullo spread e sulla borsa, però bene che abbiano fatto questa retromarcia. Concludo dicendoti che chi ha vinto? Non ha vinto neanche la Commissione europea. Aspetta, ci arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo. Perché prima voglio chiedere a Marco Travaglio se sei d'accordo con l'analisi di Giannini e perché secondo te oggi al Senato il Premier Conte ha giustamente rivendicato il successo di questa trattativa con l'Unione europea, ma c'erano due grandi assenti, Salvini e Di Maio. Che cosa significa? Questo non lo so. Non ho la più pallida idea del perché non fossero lì presenti e vedremo se riusciremo a saperlo dai loro entourage. No, invece non sono d'accordo con l'analisi di Massimo perché l'analisi di Massimo dimentica il punto di partenza. Il punto di partenza era una Commissione europea che ci voleva impiccare all'1,6 di rapporto deficit-PIL che praticamente avrebbe consentito a questo governo appena insediato e appena plebiscitato dagli elettori di disinnescare la clausola di salvaguardia che avevano ereditato dal governo precedente sull'aumento dell'IVA. Avrebbero avuto giusto i 12 miliardi per non far aumentare l'IVA e fine. E infatti tutti gli osservatori dicevano hanno promesso cose che non potranno mai mantenere. Se dovessero mai mantenere anche gradualmente il reddito di cittadinanza e la quota 100 sulle pensioni ci beccheremmo la procedura di infrazione. Siamo arrivati a un compromesso nel quale non c'è l'1,6, non c'è il 2,4 ma si sono incontrati la Commissione europea e Conte a metà strada, anzi un pelino più avanti di metà strada dalla parte del governo, al 2,04 che sembrano decimali ma circa valgono una decina di miliardi mal contati che non sono pochi che consentiranno alle due forze politiche che hanno dato vita a questo governo di iniziare con maggiore gradualità rispetto alle loro speranze, le loro due misure bandiera e di non subire la procedura di infrazione. Uno vede sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto ma certamente se questa manovra fosse stata decisa dalla Commissione europea noi ci saremmo piantati all'1,6 non avremmo avuto null'altro che un mancato aumento dell'IVA e le due forze politiche oggi si ritroverebbero i loro elettori in piazza, non so se con il gilet giallo o con il gilet di qualche altro colore, a protestare perché avevano preso in giro gli elettori. I compromessi servono a questo, io personalmente mi ero sempre detto favorevole a un compromesso e quindi penso che Conte sia stato bravo e abbia ottenuto il massimo che da questa Commissione europea si poteva ottenere. Marianna Aprile è stato bravo Conte, è stata brava l'Europa e comunque al Senato lui ha spiegato oggi come sono andate le cose, ha detto poi anche che è stato un negoziato duro. Salvini e Di Maio non c'erano quando lui ha raccontato tutte queste cose al Senato, perché? Perché l'Avvocato del Popolo fondamentalmente ha patteggiato uno sconto di pena attraverso una mediazione di cui sicuramente può intestarsi la paternità assieme, non dimentichiamo, alla filiera del buonsenso che in questo momento alberga nel governo e dintorni e albergato in questa trattativa. La filiera che va da Juncker passa da Mattarella, Conte, Tria e Moavero milanesi, insomma gli esponenti della quota di buonsenso di questo governo, la quota meno urlatrice di questo governo. Che Salvini e Di Maio non ci fossero tutto sommato, forse non era prevedibile ma è comprensibile perché il risultato di oggi è frutto di una mediazione, la capacità di mediazione non è una moneta che spendono volentieri Salvini e Di Maio perché è una moneta in totale antitesi rispetto a quelle che sono più abituati a maneggiare. E il non essere lì, non mettere la faccia alla chiusura di questa asprissima trattativa arrivata, la conclusione arrivata quasi fuori tempo massimo, significa mantenere in qualche modo, almeno formalmente, un distacco da un compromesso che verosimilmente gli impedirà di tenere fede a molte delle promesse che hanno mantenuto e gli consentirà di continuare a dare la colpa all'Europa sporca, brutta e cattiva che, mi permetto di aggiungere, partiva sì dal 1,6 ma non era un diktat, era una base di una trattativa. Se fossimo arrivati con un po' più di buonsenso, a questo 2%, 2,04, con un po' d'anticipo forse ne avremmo guadagnato tutti, anche incredibilità. È così Massimo Giannini e comunque Conte deve trovare adesso 10 miliardi, dove li troverà? Perché alla fine questo successo ha un prezzo alto. La politica è fatta di simboli, allora noi siamo passati, e qui torno alla valutazione complessiva di come si chiude la guerra sulla manovra, all'affaccio dal balcone e abbiamo sconfitto la povertà, agli scranni vuoti in Parlamento, mentre il Presidente del Consiglio illustra agli eletti del popolo e al popolo il risultato della sua mediazione. Il fatto che non ci fossero i due vice premier, che invece sono stati in prima linea in tutta la fase in cui invece c'era da mostrare i muscoli e da far vedere alla Commissione europea che noi le spezzavamo le reni, dal 2-4 non si può scendere, come disse Di Maio, se si scende dal 2-4 non c'è né il reddito di cittadinanza, né la quota 100 sulle pensioni, né la flat tax e così via, così via, così via. Allora, questo già dice che c'è un imbarazzo evidente nei due vice premier che sostengono ovviamente la linea dello scontro frontale con l'Europa. Si sono dovuti acconciare a un compromesso, io ripeto, un armistizio, una resa utile al Paese, questo bisogna dirlo, è stato opportuno che si sia arrivati a questo. Adesso però si apre un altro capitolo, perché bisognerà spiegare agli italiani appunto intanto quanto c'è costato questo gioco, perché come dicevo prima 5 miliardi di aumento dello spread, di costo dell'interesse relativo all'aumento dello spread, sono tutti lì. I mutui sono ripartiti, già ieri l'Associazione Bancaria Italiana ha indicato un aumento sia pure dello 0,5 del livello dei mutui applicati dal sistema bancario e in più adesso nella manovra si ridurranno gli importi che riguardano il reddito di cittadinanza e la quota 100 sulle pensioni, quindi questo significa che la platea dei beneficiari sarà fatalmente ristretta e le due misure forse partiranno ancora più in là. Non solo, si ridurranno una serie di piccoli stanziamenti che dovevano essere indirizzati agli investimenti, ferrovie dello Stato 600 milioni in meno, credito di imposta a favore dei soggetti che fanno investimenti in beni strutturali e in beni strumentali nuovi, poi addirittura è stato bloccato il turnover nel pubblico impiego, che vi ricordate era la grande idea del moltiplicatore regata al reddito di cittadinanza. Noi diamo il reddito di cittadinanza, mandiamo via con quota 100 tanti pensionati e al loro posto arrivano i giovani. Bene, c'è il blocco del turnover nel pubblico impiego fino al novembre del prossimo anno, quindi questo travaso non ci sarà. Questi sono costi economici e anche sociali che ora il governo dovrà spiegare agli italiani con molta onestà. Marco Travaglio, è stato troppo alto il prezzo che Conte ha dovuto pagare per, chiamiamola la pace, con l'Europa e l'ex presidente del Consiglio Gentiloni ha detto oggi che per la prima volta la legge di bilancio italiana viene scritta e varata a Bruxelles, quindi sono sovranisti senza sovranità questi del governo. A me risulta che fossero le manovre finanziarie che facevano Gentiloni i precedenti governi che venivano scritte a Bruxelles. Voi ricorderete che da Berlusconi a Renzi abbiamo avuto per anni dei presidenti del Consiglio che facevano pubblicamente dichiarazioni di fuoco, tonanti, tonitruanti, adesso battiamo i pugni a Bruxelles, poi andavano là e si arrendevano e facevano esattamente quello che gli veniva chiesto, addirittura ci furono governi il cui programma erano le lettere che mandava la BCE. Questo è un governo che ha fatto delle cose che la Commissione europea non voleva assolutamente nemmeno sentir nominare. Può piacere o non piacere, vedremo se funzioneranno o non funzioneranno, ma se questa manovra finanziaria fosse stata scritta dalla Commissione europea, ripeto, il rapporto deficit-PIL sarebbe all'1,6 e non sopra il 2%, il reddito di cittadinanza non ci sarebbe, la quota 100 sulle pensioni men che meno, visto che era la misura più detestata dalle cancellerie europee, c'è stato ancora un tentativo l'altro giorno della Merkel di farla cancellare, e invece gradualmente, finché si vuole, con la riduzione che è stata stabilita dagli uffici tecnici del MEF che hanno calcolato che l'investimento previsto all'inizio era persino eccessivo, queste due misure partiranno. Questa è la manovra finanziaria più invisa alla Commissione europea da quando esiste la Commissione europea. Dopodiché uno può menarla come gli pare, ma purtroppo le cose stanno esattamente così, nel senso che queste misure la Commissione europea non le voleva, non pretendevano soltanto di decidere i tetti, cosa che hanno piena legittimità a decidere perché i trattati li abbiamo firmati noi, non li abbiamo certamente subiti da nessuno, pretendevano pure di scrivere quello che c'era dentro la manovra finanziaria, non l'hanno potuta fare, si sono ritrovati gile gialli in Francia per le strade e nelle piazze, si sono spaventati, hanno dovuto concedere a Macron una violazione del trattato principale che è il patto di stabilità, che dice che nemmeno il Paese più virtuoso può superare il 3% e loro li autorizzeranno a superare probabilmente anche il 4% e quindi a un certo punto per non fare figli e figliastri hanno dovuto ingoiare il rospo di una manovra che alla Commissione europea non piaceva. Questa è la storia di quello che è successo in questi giorni, dopodiché sappiamo benissimo che c'è stato un compromesso, che adesso dovranno trovare questi 10 miliardi, che raschieranno di qua e di là, probabilmente alcune coperture sono ballerine esattamente come tutte le coperture di tutte le manovre finanziarie dalla notte dei tempi, ma questo è quello che è successo in questi giorni, se la Commissione avesse dovuto scrivere la manovra avrebbe scritto tutt'altro, cioè avrebbe dato ancora una volta addosso ai pensionati, ancora una volta addosso ai poveri, ancora una volta addosso ai lavoratori, perché queste sono le politiche che piacciono alla Commissione europea. Se la Commissione europea potesse sterminare tutti i pensionati e tutti i disoccupati, lo farebbe volentieri e ci promuoverebbe a pieni voti se noi lo facessimo, perché queste sono le politiche di massacro sociale che hanno imposto in questi anni. Hanno dovuto inghiottire un rospo che non piaceva nemmeno a loro e dato che si è fatto un compromesso, anche Salvini e Di Maio hanno inghiottito il loro di rospi, altrimenti saremmo sotto sanzione. Mariana Aprile, condividi questa analisi di Marco Travaglio sulla quale ci sarebbero molte cose da dire, ma insomma, vai. Non molto. Beh, ci sono tante cose da dire su tutto quello che dite anche voi, cioè non è che ci sono molte cose da dire soltanto su quello che dico io. Ma certo, infatti siamo qui e ognuno dice quello che pensa di voi. Infatti. Mariana Aprile. No, io sinceramente non condivido molto questo dipingere la commissione come una sorta di dimostro che ambisce solo a sterminare gli ultimi. in realtà credo che il discorso che è stato fatto, entrando, questo è vero, anche nel merito politico delle misure della manovra, avesse una base solida, cioè non potete promettere cose dando per scontato che crescerete di una cifra che non è né in cielo né in terra, e non lo diceva solo la commissione, lo diceva chiunque avesse in mano i dati macroeconomici del continente e del paese. Quindi non è l'Europa sporca, brutta e cattiva, era il buon padre di famiglia che diceva non crescerete dell'1,5%, è inutile che spendiate questi soldi che non vi entreranno mai. Le misure che avete adottato e che giurate serviranno a rimettere in moto l'economia e far alzare il PIL non avranno, non possono avere questo effetto, se ce l'avranno sarà molto marginale ed è giusto che ne teniate conto. Ora, sono ingerenze politiche, sono ingerenze legittime, perché è vero che lo strappo rispetto al 3% a Macron viene concesso ed è una benedizione per il governo giallo-verde, perché se non ci fosse stato questo episodio in Francia probabilmente sarebbe stato più difficile anche raggiungerlo questo compromesso con l'Europa, cioè è stato un bene per noi che in Francia stia accadendo quello che sta accadendo, ma la Francia ha dalla sua dei dati più vantaggiosi dei nostri, più spendibili dei nostri, una credibilità maggiore di quella che abbiamo dimostrato di meritare noi, che abbiamo dato fino all'altro ieri dell'ubriacone a Juncker e poi pretendevamo di trovare la quadra e di farci fare aperture di credito pressoché illimitate su stime sballate, cioè non è i buoni contro i cattivi, questa è la narrazione, dopodiché c'è la realtà. Allora, io vorrei capire una cosa Massimo Giannini, la realtà è che la Francia è talmente credibile che ha migliaia di persone in piazza che chiedono politiche sociali, mentre noi in piazza non abbiamo nessuno. Dov'è la credibilità della Francia? Dov'è il buon padre di famiglia? Secondo te un buon padre di famiglia? Un sinedrio di tecnocrati che intervengono soltanto quando la gente affamata va in piazza? Secondo te è quella la credibilità del buon padre di famiglia? Meno male che io ho avuto un altro padre di famiglia che non ha aspettato di affamarmi per darmi da mangiare. Ho detto un'altra cosa. Allora, scusa un attimo, Massimo Giannini. Abbiamo sentito bene che cosa hai detto. No, Marco, però quello che tu dici non è vero per un motivo, e cioè se da un lato, come tu hai sostenuto, la Commissione europea non ha scritto la manovra italiana, tanto è vero che sono state approvate, ancora non le abbiamo viste, aggiungiamo anche questa parentesi che pure ci vorrà, perché il Parlamento sta aspettando da due settimane e sta votando, almeno così è accaduto alla Camera, un testo che non esiste, non si sa che cosa c'è dentro. Però sono misure, tu dici, che la Commissione europea non avrebbe mai volute. Non è vero per la semplice ragione che, per esempio, alla Francia, la Francia può fare una manovra che prevede per 10 miliardi, esattamente la cifra che ora l'Italia deve ridurre dalla sua di manovra, un aumento del salario minimo e un aumento delle pensioni minime. Cioè sono due cose che hanno lo stesso segno di quelle che introduce il governo italiano in questo momento. Quindi la Commissione europea queste cose le fa fare a condizione, come è ovvio, che tutto questo non scardini il meccanismo di bilancio. E la prova della resa, se mi consenti Marco, è in un fatto, e cioè che per il 2019 e per il 2020 il governo italiano, l'ha detto oggi Conte in Parlamento, è stato già costretto a reintrodurre una nuova clausola di salvaguardia dell'IVA perché prevede già ora che con ogni probabilità quel quadro di compatibilità economiche riscritte insieme alla Commissione europea potrebbe non verificarsi. Hanno fatto tutta la campagna elettorale dicendo noi aboliremo le clausole di salvaguardia perché sono state la rovina dei bilanci di questi ultimi anni. Cosa vera? Adesso le devono fare anche loro perché il rischio che questi impegni non possono essere mantenuti è elevatissimi e quindi noi partiremo con la manovra del prossimo anno già carichi di 24 miliardi di coperture che dovremo trovare perché alle clausole di salvaguardia già previste originariamente se ne aggiungono altri 10 miliardi. Questa, ripeto, a mio parere è la prova tangibile del fatto che ci siamo dovuti arrendere ad una cosa che non vota alle elezioni ma che si chiama realtà. E io aggiungo positivo che sia andato così perché andare allo scontro ne saremmo usciti con le ossa ancora più rotte. Marco Travaglio, ti voglio chiedere una cosa. Pensavo che ci sarebbero molte cose da dire al tuo intervento, quello di prima, veemente contro l'Europa. Perché tu pensi che l'Europa, la Commissione europea... Contro questi quattro signori che si sono autoproclamati rappresentanti dell'Europa, non contro l'Europa. Contro un signore che consente alla Francia cose che non consente agli altri paesi perché deve farsi rileggere in Francia, per esempio. Non contro l'Europa. L'Europa è una cosa seria, ma scovi sì meno. Siccome l'Europa è una cosa talmente seria che quelli che vengono chiamati quei signori a Bruxelles, gli euroburocrati, quelli della Commissione, sono stati disegnati dai governi nazionali, votati dal Parlamento europeo che a sua volta è eletto, come tu sai, dai popoli europei. Ma ti volevo chiedere che interesse avrebbe l'Europa a legare, mani e piedi all'Italia e a farci andare giù nel precipizio? Perché ha detto, ha spiegato adesso Massimo Giannini, che alla Francia fanno fare per 10 miliardi esattamente quelle cose che vogliamo fare noi, solo che evidentemente partiamo da due realtà diverse. O c'è proprio una cattiveria specifica dell'Europa contro l'Italia e contro questo governo? Ma intanto questi signori sono stati eletti per governare l'Europa e per fare gli arbitri imparziali, non per fare gli arbitri venduti. Se uno fa l'arbitro e parteggia per una delle squadre, è ovvio che le altre squadre non possano riconoscerlo come arbitro. Se Moscovici, tutore inflessibile delle regole, a un certo punto stabilisce che quelle regole non valgono per il suo Paese, dove lui deve essere fra poco rieletto e soprattutto ricandidato da Macron, consente a Macron di violare delle regole, lo vorrei ricordare perché ce lo siamo dimenticato, che nessuno può violare. Indipendentemente dallo Stato dei conti dei vari Paesi, il 3% non lo può superare nessuno. E Moscovici, da ministro francese, ha violato le regole europee quando si occupava di economia per il governo francese, tant'è che la Francia è stata nove anni sotto procedura di infrazione, anche quando c'era lui. Allora, di che cosa stiamo parlando? L'Europa è una cosa seria. Questi traffichini che devono farsi ricandidare e rieleggere e che quindi negli ultimi giorni, prima della scadenza del loro mandato, fanno gli interessi del loro Paese o del partito che sperano che li ricandidi, al posto di fare gli interessi dell'Europa, non sono né l'Europa né gli arbitri, sono degli arbitri venduti. Lo abbiamo visto. Stante questo punto di partenza, a noi è andata bene, perché era talmente smaccato il favore che stavano facendo alla Francia, consentendole ciò che non è consentito a nessuno, nemmeno a zero debito, è evidente che hanno dovuto guardare con un occhio di favore all'Italia e consentire all'Italia quello che non avevano consentito prima, perché ripeto, loro volevano l'1,6 e adesso si ritrovano a digerire il rospo del 2,04, che sarà poco, ma è comunque più di quello che loro volevano imporci, anche perché in quel 2,04 ci sono delle misure che a noi non volevano lasciar fare. Il fatto che Giannini dica ma le lasciano fare ai francesi, dimostra ancora una volta quello che ho detto io, e cioè che l'arbitro non è imparziale. Ma no Marco, è talmente imparziale, infatti, io non sto qui a difendere la Commissione europea che ha infinite responsabilità anche del quadro in cui ci troviamo, ma è talmente imparziale che alla fine, alla fine, la procedura di infrazione non ce l'ha applicata neanche a noi. Quindi voglio dire, anche loro hanno compreso, in questo senso ha ragione a Marianne Aprile, il vincitore di questa partita effettivamente sono i gilet gialli, perché se non ci fossero stati i gilet gialli, probabilmente l'approccio sarebbe stato completamente diverso, anche nei confronti del nostro paese, ricordando come disse Keynes dopo la pace di Versailles, attenti a non sanzionare la Germania perché tra vent'anni ci ritroveremo con un'altra guerra mondiale, cosa che si è puntualmente verificata. Questa volta i commissari, quelli che tu disprezzi Marco, hanno mostrato anche loro un certo buonsenso. Allora io vorrei solo una cosa... No, hanno paura, hanno paura della gente in piazza, è molto semplice. Ok, va bene. Hanno paura della gente in piazza e hanno stabilito. Ma no, perché la gente in piazza ce l'hanno mandata loro, affamandola per tanti anni con politiche assurde. Ma scusami eh, che ce li ha mandati. Non mi avete risposto alla domanda che interesse avrebbe l'Europa ad affamare il popolo europeo. Non mi avete risposto, poi potremmo aprire dibattiti lunghissimi sulle politiche neoliberiste eccetera eccetera, però che interesse avrebbe l'Europa a autodistruggersi non l'ho capito. Io voglio però una rapida cosa con Mariana, discutere con te. Allora, tra manovra, il DDL anticorruzione, il nuovo ponte di Genova, sicuramente il governo si può dire che chiude l'anno smentendo i suoi più feroci critici. Questo è un dato di fatto. Ni, nel senso che sia il decreto, le decisioni sulla ricostruzione del ponte Morandi, sia la manovra, sono stati varati quasi fuori tempo massimo, sono stati a lungo pasticciati, sono stati, hanno avuto percorsi molto incidentati e anche a tratti molto sguaiati e l'essere incidentato, pasticciato e sguaiato dà ragione fondamentalmente ai critici. Quanto allo spazza corrotti, è un provvedimento che nelle intenzioni contiene delle cose su cui nessuno può dirsi in disaccordo, ma nelle pieghe ne contiene altre che fanno orrore, ne dico una su tutte, la facilità con cui i sindaci d'ora in poi potranno concedere appalti per lavori sotto 200 mila euro che sono il 70% occhio e croce di quelli che vengono fatti nel paese e il fatto che la certificazione antimafia sarà necessaria solo per lavori da 150 mila euro in su. Il che apre, che ne dica Salvini che vuole combattere la mafia in pochi mesi, al massimo in pochi anni, alla Toninelli, apre autostrade al malaffare a livello locale, della gestione dei soldi pubblici a livello locale. Speriamo di no, lo monitoreremo, io adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché sicuramente il primo dei problemi irrisolti anche per questo governo è la disoccupazione. Pochi secondi e poi il punto. È stato pubblicato in questi giorni uno studio della Banca d'Italia che misura l'economia dei lavoretti, la gig economy. Sono occupazioni come le consegne a domicilio di cibo, l'utilizzo della propria auto per servizio taxi, l'attività di babysitter di una sera, le ripetizioni private o le riparazioni casalinghe effettuate di volta in volta su richiesta di clienti differenti. Grazie alle piattaforme digitali che mediano l'incontro tra la domanda e l'offerta, la gig economy è un fenomeno in crescita e nei mesi scorsi si è guadagnato le prime pagine dei giornali per le proteste dei rider e l'intervento del governo. Ma è un fenomeno che resta comunque di dimensioni assolutamente marginali. La Banca d'Italia stima che gli addetti al settore delle consegne di cibo a domicilio nel nostro paese siano 7.650, pari allo 0,037% del totale degli occupati. Diverso è l'impatto di altri numeri, come quello apparso oggi in un grafico del Sole 24 Ore, secondo cui in Italia si registra una carenza di manodopera del 37% rispetto al fabbisogno. È un dato di sintesi confermato dal recente sondaggio che il gruppo Manpower ha condotto su un vasto campione di aziende. Mancano operai e tecnici specializzati, mancano ingegneri, informatici, programmatori, sistemisti addetti alle vendite. Secondo altre ricerche, a fronte di circa 3 milioni di disoccupati ufficiali, in Italia ci sono oltre un milione di posti disponibili. È il grande paradosso di un paese che si appassiona alle vicende sindacali degli studenti che consegnano la pizza e ignora il disastro del lavoro che potrebbe esserci e non c'è per l'inefficienza del nostro sistema formativo. Marco Travaglio, tu che cosa ti aspetti da questo governo nel nuovo anno sul fronte del lavoro e della lotta alla disoccupazione? Ti posso dire quello che spero che faccia questo governo, cioè che approvi alcune misure penso buone che ci sono nel contratto, altre sono pessime, ma alcune sono buone come l'anticorruzione che è ottima, che è stata appena approvata e che blocca la prescrizione, inserisce la gente infiltrato, aumenta le pene, premia i pentiti. Ci vuole una legge feroce contro l'evasione fiscale. Io spero che quel punto del contratto che parla di carcere per gli evasori fiscali diventi immediatamente legge, so che lo metteranno, così hanno detto, all'interno di una riforma dei reati tributari, perché queste sono norme che non costano niente, ma portano soldi e dato che quest'anno sarà un anno dedicato a cercare soldi, proprio per evitare che scattino le clausole di salvaguardia che, come ricordava Massimo Giannini, verranno presto reinserite. Bene, combattere seriamente, duramente, facendo paura agli evasori fiscali e spaventandoli con l'unica cosa che li può spaventare, cioè la galera, si recuperano un sacco di soldi, perché la gente che non paga le tasse comincerà a pagarle soltanto se ha paura di finire dentro, del resto i paesi che hanno un'evasione non patologica ma fisiologica, a differenza di noi, hanno tutti galera assicurata per gli evasori, l'unico paese dove non si va in galera per evasione è il nostro, quindi quella è la prima cosa, e poi altre cose, soprattutto basta con il TAV e altre sciocchezze e opere medio-piccole di manutenzione, che costano meno e creano più occupazione delle grandi opere. Giannini, Telegrafico e poi Mariana. Telegrafico sono d'accordo con Marco Travaglio, mi sarei aspettato dal governo del cambiamento guidato dal Movimento 5 Stelle che la prima manovra finanziaria fosse tutta impostata sulla lotta all'evasione fiscale, c'è un piccolo dettaglio rispetto a quello che diceva Marco, la lotta all'evasione fiscale porta soldi ma non porta voti, purtroppo, perché siamo un paese di santi evasori e navigatori e quindi è difficile, la prima cosa che hanno fatto infatti purtroppo è stata un condono. Mariana Aprile, Telegrafica. Un'altra cosa che porta soldi forse ma sicuramente non voti è la lotta al lavoro nero. Quando abbiamo sentito nelle varie fasi illustrare le tecniche di applicazione del reddito di cittadinanza abbiamo sentito parlare anche di un sistema che permetterà di smascherare qualunque tipo di lavoro nero in modo da non sovrapporre il reddito al lavoro nero, io mi auguro che sia vero perché una volta risolta quella voce lì sia un pezzo avanti. Grazie, grazie Mariana Aprile, grazie Marco Travaglio, grazie Massimo Giannini, grazie spettatrici e tentatori, vi lascio ad Atlantite che stasera vi presenta la Grande Guerra. Sono infatti passati cento anni da quando è finita la Prima Guerra Mondiale. E noi come sempre ci vediamo domani, notte e mezzo, arrivederci.